Buonasera a tutti, innanzitutto mi ringrazio come un profilettore che ci dà delle belle parole che ci dà delle opportunità che personalmente mi ha dato, che ci hanno avviso. Io sono un ragazzo che arriva dal basso, con tante ambizioni e tanta voglia di prenderci il gioco in una società importante come lo Spezia. Buonasera a tutti, sono Alessandro Pio e ringrazio anche io il direttore per le parole di Espresso e che mi giusto. Devo dire che sono molto contento di essere qui, quando mi è arrivato al nostro Stato di Spezia mi ci ho pensato due volte perché era una piazza importante e sono qui, posso piacere, sono molto contento di essere qui. Mi sono noto subito bene, i ragazzi mi hanno avuto benissimo, siamo un grande gruppo e tutti noi sono contenti. Un grande sorriso a tutti. Salve a tutti, sono Iago Pogalli e vengo da Crotone, sono di Carrara ma vengo da Crotone. L'anno scorso non ho avuto tanto spazio e quando è arrivata la composta dello Spezia non ci ho pensato due volte. I ragazzi ci sono trovati assolutamente bene, un gruppo vero, un gruppo unito che è una cosa fondamentale per la fine. Cercherò di dare la mano il più possibile al gruppo, al mister, a tutti. E comunque ringrazio anche il direttore per la fiducia e tutto. Buon pomeriggio a tutti, sono Iago Pogalli e vengo da Crotone. L'anno scorso ho fatto la serie di Salvo Gimonsi, quindi vengo dal basso come Berthe. E sono un ragazzo più giovane del gruppo, il 697 e qua a Spezia è una comunità fantastica. e ringrazio anche per quelle parole che hai espresso verso i miei confronti e per l'opportunità che mi ha dato per essere qua. Sono qua per imparare perché sento un giovane e darò il basso per dare una mano al gruppo. Grazie.